Ciao a tutti queciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di gta online mi sono appena reso conto di aver cambiato i vestiti al mio personaggino che in realtà Ha la faccia piuttosto strana cacchio è davvero strana la faccia del mio tivo guarda qui guarda il tipello come cacchio è messo Porca vacca L'hanno massacrato di botte c'è tutta la faccia deformata c'ha il naso tutto tozzo è un tutt'uno con la fronte il naso tutto dritto è dritto ok poi vestito così sembra davvero Un serial killer che figata tra l'altro comunque prima di iniziare volevo farvi vedere una cosa perché Diciamo girovagando nei menu ho trovato questa voce ho scritto arredamento ufficio arredamento ufficio ti permette di cambiare Di date un'anteprima di come sarebbe il tuo ufficio se avessi soldi per cambiarlo io non ci do i soldi per cambiarlo comunque questa è tipo la Visione d'epoca vintage no accogliente vintage ancora un'altra vedete ci sono le candele Legno mogano Scuro è molto molto carino però la più bella ragazzi è questa qui power broker costa un milione di dollari Di che di arredamento è Tantissimo costa più di una casa un milione di dollari solo di arredamento è un po tantino Però guardate qui che figata guardate che figata è tutto bellissimo moderno sembra la base di batman che tra un po' Esce la bat mobile e alfred che ti portano a sconfiggere il crimine anche se alla fine il crimine sei tu perché siamo in gta Quindi non è che abbia molto senso però c'è guarda che figata se avessi un milione da buttare purtroppo non ce l'ho di sicuro Lo spenderei in questo arredamento anche perché dopo tipo mesi che siamo in questo Ufficio di questo tipo perché noi abbiamo cambiato zona dell'ufficio però l'ufficio l'arredamento è sempre quello quindi Diciamo che sarebbe molto molto carino cambiare un po' cambia a cambia anche l'arredamento dell'appartamento Ti dirò che non sarebbe davvero davvero male purtroppo al momento ho bene o male poco meno di un milione di dollari Quindi non è fattibile ce ne sono anche di meno costosi però diciamo che il più bello è quello la power broker Glaciale che poi power broker sarebbe tipo uno che gioca con le azioni no uno che gioca in borsa è un broker E quindi niente non lo farò vedere perché è davvero particolare molto carino e magari in futuro potrebbe essere una cosa che faremo Ora voglio iniziare questo episodio in realtà facendo un paio di missioni quindi cerco una partita veloce in questa sessione ci sono più di dieci giocatori Non so quanti saranno interessati a fare dell'attività con me però a quanto pare qualcuno c'è eccoci qua rip lost mc La mar la mar e anche andrick la ma Comunque devo ammazzare dei motociclisti ed è bello a me piace tantissimo ultimamente sto scendo un botto di queste missioni Perché sono missioni diverse rispetto al solito che non sono nuove non sono per nulla nuove Però rispetto a quelle che faccio di solito che sono quelle alle missioni si o le missioni invece non lo so di Stare sulla macchina le missioni del motocycle club e robe varie e diciamo che questo è tutta un'altra roba e poi bisogna farlo insieme a qualcun altro Quindi è anche più divertente comunque dobbiamo andare al cimitero Che è una cosa un po profana però noi siamo in gta e ce ne fotte altamente e al cimitero dobbiamo ammazzare la gente da quello che ho capito Comunque eccoci qua siamo al cimitero io direi che possiamo pure scendere dalla macchina perché ecco scendiamo bella sta macchina tra l'altro Ce ne sono tantissime a san diego così Elimina i lost oddio c'è una gang che si chiama lost figata Ora bisogna stare attenti perché qua porca vacca Finisce male io te lo dico io inizio a sparare a mozzo e quanta vita c'hanno sti cosi quanta gente quanta gente c'è porca vacca qua mi fanno il culo Perché sta esplorendo già tutto e la madonna c'è un botto di gente Ammiriamo alla testa che magari orca vacca ragazzi forse devo tirare fuori una granata forse con verità di fuori una granata ragazzi Lanciamo la granata boom stiamo attenti ammazza questo ok Proteggiamoci o meta vita se muoio è un casino chi è che spara c'è qualcuno che spara e che sta sparando vedo qualcuno che c'è qui ma non lo vedo Di sol albero forse no porca vacca sono morto e niente abbiamo fallito la missione o c'è un'altra vita o un'altra vita ok Allora tirano fuori il fucile a cecchino stiamo a distanza e è bello come fa e spararmi da così lontano Curbufu ok devo ammazzare la gente da lontano che sono bravo solo a farlo da lontano ok boom Perfetto in realtà si è molto più sicuro così ho il fucile potente tanto vale usarlo in realtà sto già morendo incredibile avete visto qualcuno io non vedo più nessuno porca vacca porca vacca mori ho pochissima vita io direi Nascondiamoci per il momento perché potrebbe essere letteralmente rischioso ma il mio amichetto non c'è più è morto il mio amichetto E vabbè questi mi colpiscono da 6.000 chilometri di distanza che cosa posso fare lo oddio c'è di snack Inventario snack no c'è solo la peacewasser ma la peacewasser non mi fa non mi fa recuperare vita dirò diciamo qualche super mega granata Orca vacca no no ho sbagliato ecco diciamo che è neanche così è stato un bel lancio Grazie il problema è che mi sa che il mio amichetto è morto e con un amichetto morto non fai molto Passiamoci difenditi non è a come ti alzi ti spacco tutto è che cosa sta succedendo l'ho visto l'ho visto Eccolo boom headshot beach Ok ne rimancano 6 è fattibile ragazzi se riuscisse a vederli sarebbe molto meglio Ma il mio amichetto che cazzo di successo è morto e qui abbiamo finito le vite e quindi se muoio anch'io un casino altrimenti vinciamo purtroppo io non ho giubbato antiproietti potrebbe essere un problema questo ragazzi quello è una persona No, ho bisogno di posti in cui difendermi però non posso andare in giro così proviamo Di cattiveria a nasconderci qui dietro orca vacca orca vacca Ammazza 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 orca vacca come come fanno il culo ora orca vacca muori ok ok Perché non ti abbassi che ti è successo Riesce ad abbassarsi sulla tomba non troppo è troppo sacra per lui non è per niente un criminale che non dovrebbe fregarsene di queste cose vero alzati Alzati dai e qua bello lo so che ti vuoi alzare boom ok ne mancano due Tranquillo come si chiama il mio amichetto tranquillo cthulhu che la porta a casa io dov'è l'altro nascondiamoci dietro le tombe Dei bravi ragazzi insomma no qua deve essere particolarmente vicino Al prossimo nemico ma non lo vedo andiamo di qua andiamo di qua veloce Ok l'ho visto uno dove l'altro dove l'altro ho pochissima vita eccolo Muori boom vittoria l'ho portata a casa a cthulhu don't you worry Appenao che mi abbia dato un po' di soldi almeno ehi 12.000 dollari Buono buono 3000 rp si viaggia che cosa è successo sono finito in una lobby di la steam stand ma perché un buco in faccia Ma che è successo Allora sono io contro un altro un altro voglio dire un altro team ma siamo solamente in due Non so perché ma mi sta crescendo una cresta in testa non ce l'ho la crista in testa perché ca perché sta crescendo da solo Vabbè comunque io devo prendere a quanto pare il carro armato E devo perché si muove da solo il carro armato ma che cosa sta succedendo ragazzi Siamo cammini devo andare a uccidere l'altro tipo e chi e chi vince due round Aveva vinto tutto ho solamente cinque colpi Questa è questa è la prima persona che sembra un first person bagno vabbè Allora andiamo dal nostro amichetto e vediamo chi sopravviverà Sta iniziando già a sparare tra l'altro porca vacca qua c'è una cura Volevi volevi tu guarda come ti becco Guarda che passa in mezzo Sta avendo fucile a cecchino Non so a cosa gli serve guarda che gli sparo Gli sparo eccolo Oh c'è già metà vita Oddio Porca vacca orca vacca o esplosio 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 Ok primo round vinto primo round vinto se ne vinco un altro abbiamo vinto tutta la partita Ho vinto ho vinto ok primo round dato perché apposta apposto Questo 2000 dollari pure schede questa partita sarebbe molto più divertente se ma tanta gente però in questa roba ci siamo solo io e lui e quindi Vabbè va così per cosa c'ho in testa cosa c'ho in testa che c'è una striscia nera in testa Non c'era prima più brutto di prima così e ce ne vuole se mette c'è anche il lanciarazzi Cinque colpi perché se mi nascondo in un punto posso sparare giustamente portiamocela a casa ragazzi è alla meglio di due round che poi in realtà Quindi poi anche pareggiare volendo Allora purtroppo non posso mirare a distanza quindi devo tipo prendere calibrare La balistica del missile anche se il missile spara veloce quindi in realtà che cosa dovrei calibrare un kaiser miro a lui e sparo a ripetizione Tanto il caro armato in teoria non dovrebbe avere troppi problemi di munizioni Cioè dovrebbe averli infiniti a dirla tutta vediamo Facciamo esplodere un po' di gente cerchiamo di non prendere danni Oh oh si è andato a nascondere si è andato a nascondere sta sparando Oh oh cosa sta facendo sta sparando granate con lanciarazzi Piccolo buffetto mamma mia come ti becco ora Oh 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 si è incagliato si è incagliato T'ho preso Boom l'ho preso Uh di nuovo Attento 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 Uh vieni qua vieni qua Vieni qua boom eschere eschere vinto Vincitore partita vincitore di tutto in teoria E infatti ora mi sta dando i punti Qua quasi 4000 dollari per aver ammazzato uno quindi direi non male Eschere che bello Ah 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 ho vinto eh Sì ho vinto Piccoli buffetti Interessante grazie grazie Carino carino devo dire non ci sta Increibile ho fatto una nuova sessione questa è paracadutismo e sta entrando gente Quattro siamo in quattro persone di già Ma in quanti siamo all'improvviso? Schere voglio dire che appena siamo in otto possiamo partire Sta partendo sta partendo Ho fatto una sessione con tanti giocatori Sì la mia vita è completa Ok che paracadute ho? Paracadute ad alta quota E schere Allora scende attraverso il checkpoint per guadagnare punti Passate verso il cento per più punti Ok 3 2 1 Via Ok Bisogna lanciarsi E bisogna prendere i centri qui E' importante prenderli tutti Che se li prendi tutti fai più punti Bisogna vedere se riesco ad arrivare il primo Bella domanda Piano Piano Gira 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 Eh ne è mancato uno Ne è mancato uno Gira dentro E' più complicato di quello che sembra Vi dirò la verità Ok Anche perchè porca vacca Siamo in fondissimo Il mio giocatore è a 75 Io sono a 55 Ok Se giro senza premere avanti Vado un po' più lento E riesco a prendere più punti No Porca vacca L'ho preso male 5 punti Se lo prendi proprio il centro dove c'è la freccia Fai 10 punti Non sono male raga 10 punti 5 Ce n'è uno rosso Perchè ce n'è uno rosso Ci sono tanti punti rosso Fmf per sganciare il pare cadute Orca vacca Ok Ok Mi butto Mi butto Eeeh Lo apri Lo apri Ok E in realtà si non arriverò mai primo Il primo è da 190 Cioè Vuol dire che l'ha presi tutti al centro tipo Ok Vedo vedo il punto di atterraggio Dai che ce la facciamo Piano 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 Ok Tranquillo Tranquillo Però di sicuro non sono ultimo Oddio Meglio Meglio non parlare eh Dieci punti Vai vai C'era dire che facendo questa gara però diventi bravo col paracadute poi L'importante è atterrare Nel punto preciso Se atterra nel centro Faccio più punti E invece Eeeh Facciata Meno 5 punti Però più 15 punti perché sono salito Sono arrivato primo ma non ho fatto più punti mi sa Peccato E guarda ora arrivano tutti piano piano Però com'è andata sono curioso Ah ok Spezia di giocare agente che deve finire Classifica Tab Sono terzo Con 220 Il primo 330 E Vabbè Meglio di niente E' arrivato anche l'ultimo che non ha beccato manco Vabbè manco lui ha beccato il centro contento Sono arrivato quarto perché evidentemente uno degli ultimi ha fatto più punti di me 220 punti ci ho messo due minuti Due minuti Mi sembrava molto meno tempo Vabbè ho fatto i miei 3000 dollari Sono contento E come al solito io volevo terminare l'episodio nel mio ufficio Comunque nella città di Los Santos Però si blocca sulla schermata di ritorno alla free mode Quindi per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Noi ci vediamo nel prossimo episodio di GTA Online Ciao turuturututti